E' altro per voi, quindi sia araccio che a prendere la presa. Eeeeeee! Vieni qua! Lo fate a prendere la maglietta! Vieni qua una lottina, ognuno di me. Vieni qua un'altra, ognuno di me. Sì, non ci faccio la maglia. Presa! Tutte le dà una posta! Tutte le dà una posta! No, mia! Non ti dà una posta! Sì, che faccio la maglia! Vai, vai vedere la maglia, dai! Sì, ti dà una posta! Alla cieca! Chi perde? Oiii! Non! Eh, eh, l'onca, l'onca! È in, l'onca! È in, l'onca, è in, l'onca! È in, l'onca, è in.. È in, l'onca! Allora, ecco. Allora, ecco. Ma, va bene eh! Ma, va bene, va bene, va bene! La cosa viene, va bene adesso, va bene. Io, voglio, è in, l'onca! Viena, è in, è in, è in riscola. È in, è in, è in, è in, è in, è in. Di, è in… Grazie a tutti.